Allora, con Alessio Marazzini parliamo di powerlifting. Perché è importante in questa disciplina, come in altre discipline, la cura del dettaglio? È fondamentale perché spesso tra un'alzata mediocre e un'alzata eccellente ci passano solo piccole differenze. La cosa importante è ridurre al minimo il rischio di infortuni e quindi consentire all'atleta di allenarsi per un maggior numero di giorni all'anno. E ovviamente l'obiettivo è quello di migliorare la forza. Senti, parliamo anche degli atleti che segui tu personalmente in questa disciplina. Che performance hanno ottenuto? Io ho atleti che sono ai vertici in Italia, con numerosi record italiani e ho anche degli atleti medagliati all'estero in competizioni di altissimo livello. Parliamo di campionati europei, campionati dell'Unione Europea. Anche in questi ambiti hanno conseguito dei record e delle medaglie. Per chi non conoscesse bene questa disciplina, parliamo anche di un rapporto tra peso e alzate, nel senso per far capire di cosa stiamo parlando. Tanto per darvi degli esempi, vi posso citare Salvatore Pisasale, che è uno dei miei migliori atleti. Parliamo di un atleta che pesa 66 kg e ha fatto 195 kg di panca, conquistando la medaglia di bronzo ai campionati europei del 2014 a Sofia. Ho atleti come Piero Liuzzi, che è campione italiano del 2014, che ha 117 kg di peso corporeo, ha fatto uno squat a 320 kg e una panca a 225 kg. Ho atleti che hanno record nella Coppa Europa, come Antonio Foroni, con 331 kg di stacco, ha soli 100 kg di peso corporeo. Dunque prestazioni di altissimo livello. Senti, il progetto che è partito oggi con la palestra Lottatori Milano è un percorso che porta al miglioramento della performance degli atleti, quindi la cura dei dettagli nell'esecuzione. Un bellissimo progetto che con Antonio Sacinto probabilmente si svilupperà nel corso della prossima stagione. Allora, come vedi questo progetto e questa prospettiva di sviluppo, diciamo? È un progetto importante e ambizioso. È un'idea che ci è venuta insieme. Io collaboro con Antonio da tempo, l'ho conosciuto come atleta e poi abbiamo pensato di sviluppare insieme questo progetto perché abbiamo capito l'importanza della forza per i lottatori e per chi pratica arti marziali. E allora stiamo creando un pool di professionisti, ognuno nel proprio settore, per fornire le massime competenze, ognuno nella propria area. Perfetto, allora ci sono a breve un servizio esclusivo su Budo International. Ti ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao!